Sto bene, mi è venuto un po' di crampo, ho corso un po' troppo avanti e indietro, però sto bene, sto bene. Questo che mi chiede il mister è il rincolo, secondo lui ce la faccio, faccio quello che chiede lui, poi se non ce la faccio più alzo la mano come ho fatto, ce la facevo più, ho detto mister, non voglio fare eroi, mettermi fuori. Devo ringraziare i miei compagni che non gioco da solo, la palla che mi ha dato Manolo dovevo solo fare quello che ho fatto, perché era troppo invitante, ero io e il portiere, poi sotto la curva è ancora più bello. Ma è bello, perché questa difusoria anno scorso, nel momento di crisi mio, mi è stato sempre vicino, c'è un regalo a loro, c'è un ringraziamento a loro. Ho i miei amici che vanno in curva, questa settimana mi hanno massacrato di messaggio, quando andavamo a cena era sempre i derby, i derby, dicevo raga, già mi alleno ogni giorno, devo ascoltare voi, aspettate un attimo, poi loro che hanno fatto la maglia, no devi mettere, devi mettere, è andata bene, è bello, poi i derby, è bello, bellissimo, rimarranno in ricordo, ormai è un ricordo, passato. Noi pensiamo in salvarsi, se a Manel promossa, però prima salviamo, poi facciamo incontri, prima si salva, prima si diverte.